Noi alleviamo trota all'interno del parco del Ticino, siamo produttori che utilizzano acque di sorgente, le acque pure, incontaminate, che noi utilizziamo per bere. La trota è un indicatore di purezza, di qualità delle acque, quindi è una sostenitrice dell'ambiente da quel punto di vista. È un prodotto molto salutistico, con 140 grammi di trota noi soddisfiamo le necessità di Omega 3 di una persona adulta per una settimana. È un prodotto estremamente digeribile, in 90 minuti viene digerito e un bambino già a 8 mesi può mangiare un preparato a base di trota fresca. È un prodotto anche estremamente raffinato perché è un prodotto proprio per questa sua qualità, per il fatto di essere estremamente magro, o comunque magro perché dà un 3 o 5% di grassi, ma può essere utilizzato anche sotto forma come antipasto, nella forma fumicata, che è un prodotto che rende prestigio alle sue qualità. È un prodotto che facciamo in Italia, lo facciamo a due passi dalle grandi città e quindi anche da questo punto di vista è molto conveniente e compatibile.